55 minuti per tornare a parlarsi. Tanto è durato l'incontro tra Papa Francesco e il Presidente russo Vladimir Putin nella sala della biblioteca dell'appartamento pontificio. In una via della conciliazione blindatissima, piena di forza dell'ordine, il Presidente è arrivato con un ritardo di 50 minuti. Il russo è stato accolto nel cortile di San Damaso dal prefetto della Casa Pontificia, Monsignor Georg Gansvain, quindi la stretta di mano con il pontefice. E la terza volta che accade il primo incontro fu il 25 novembre 2013, il secondo il 10 giugno 2015. Il Papa al termine del colloquio gli ha consegnato un messaggio per la pace. Poi una colazione di lavoro con il Presidente Mattarella, anche se al centro della visita c'è l'incontro con il Premier Conte a Palazzo Chigi. A seguire la cena a Villa Madama, dove a Conte si affiancheranno anche i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.